Come andiamo ragazzi? Dove siete stati di bello in questi giorni? Molti commenti che ho ricevuto dicono un po' tutti giustamente la stessa cosa e cioè va bene non serve usare le mascherine FFP nella vita di tutti i giorni come dici nel video però se almeno ci mettessimo tutti le mascherine chirurgiche eviteremo di sputazzarci uno con l'altro e raggiungeremmo una specie di protezione collettiva che sarebbe utile per tutti. D'altra parte questa è una cosa che si fa comunemente in molti paesi asiatici come la Cina, la Corea che molti appunto citano e che in questi paesi è considerato un po' una forma di rispetto verso gli altri. Quindi adesso voglio parlare un attimo di questo argomento però facendovi capire anche alcune sfumature che sono molto importanti. Anche questo video è fatto in collaborazione con Generation, la biologia divertente, un'iniziativa di divulgazione a cui collaboro in prima persona. C'è una pagina Facebook con notizie, post, informazioni tutte le settimane che vi consiglio di seguire. Per gli insegnanti e gli studenti delle scuole medie superiori segnalo anche i materiali didattici di Generation, lezioni multimediali, sulla biologia e le biotecnologie possono fare sicuramente comodo questi materiali che sono fatti appunto per la didattica. Vi metto i link in descrizione sia per Facebook che per i materiali didattici. Trovate anche dei quiz che vi potete divertire a fare in questi giorni di isolamento forzato. La domanda fondamentale è ma queste benedette mascherine le dobbiamo portare o non le dobbiamo portare perché ci sono pareri esperti anche di organismi scientifici che dicono una cosa e altri che sembrano dire il contrario. Cerchiamo di fare una sintesi. Intanto dipende dal tipo di mascherina e dal tipo di utilizzo che ne vogliamo fare. Qui noi stiamo parlando della cosiddetta vita di comunità, cioè della vita di tutti i giorni che noi facciamo insieme agli altri. uscire a fare la spesa, andare in giro, andare in un negozio, in un mezzo pubblico eccetera. Cose che al momento sono molto molto limitate per via del lockdown che stiamo praticando in questo momento. Piano piano il lockdown si allenterà e gradualmente torneremo ad una vita di comunità. Nella vita di comunità le mascherine FFP non servono. Il motivo ve lo spiego nel video precedente. Nessuno le sa usare correttamente. Sono nate e concepite per essere usate in un altro ambiente che è l'ambiente degli operatori sanitari e dove ci sono operatori che sono addestrati all'utilizzo di queste mascherine. Nessuno di quelli che io vedo in giro, lo ripeto, sa usare correttamente questi dispositivi. E mi fa anche piacere che alcuni commenti di persone che usano questi dispositivi per la loro professione mi hanno confermato che è così, nel senso che anche loro vanno in giro e vedono la gente che li usa in una maniera più impropria possibile. Quindi niente mascherine FFP nella vita di comunità. Su questo sono d'accordo tutti, i belli e anche i brutti. Indossare una mascherina FFP o una mascherina chirurgica sono due cose molto molto diverse, come spiego nel video precedente. Quindi per noi comuni mortali che giriamo per la strada nella vita di comunità la mascherina equivale a mascherina chirurgica. Anzi adesso utilizzerò l'abbreviazione MC mascherina chirurgica così proprio non ci sbagliamo. Lo scopo delle MC, ricordiamolo, non è proteggere chi respira ma è proteggere chi ci sta davanti, cioè fare in modo che le nostre goccioline di saliva non possano arrivare a contaminare altre persone. Quindi l'idea che sta dietro all'uso delle MC è un'idea di protezione collettiva. Io mi metto la MC per proteggere te, tu ti metti la MC per proteggere me. È un'idea sicuramente sensata. Perché allora qualcuno le consiglia e qualcuno no? Tutti sono d'accordo sul fatto che mettersi una MC davanti alla faccia può limitare fortemente le probabilità di contagio da una persona all'altra. Il punto è se questa cosa, cioè MC per tutti, faccia veramente la differenza rispetto alle altre misure che contemporaneamente bisogna prendere e bisogna fare. Come ad esempio il distanziamento sociale, la tracciatura dei contatti e i test per cercare di individuare le persone positive e metterle in isolamento e molte altre cose. A questo riguardo molti mi scrivono giustamente, vabbè però in Cina e in Corea tutti usano le mascherine e in effetti funziona perché riescono a tenere sotto controllo l'epidemia. È vero, in questi paesi tutti usano le mascherine, è probabile che le mascherine abbiano effettivamente un impatto positivo, ma sul piano strettamente scientifico è difficile da misurare, da capire perché contemporaneamente questi stessi paesi sono quelli che usano maggiormente le misure efficaci, altrettanto efficaci, di distanziamento sociale, misurazione della temperatura dovunque nei luoghi pubblici, isolamento e tracciatura dei casi positivi eccetera eccetera. Tutte cose che bisogna comunque fare indipendentemente dall'uso o meno del MC. Scordiamoci che da sola una mascherina, anche se la portiamo tutti, possa risolvere il problema. Può dare un contributo importante eventualmente, ma non può essere un sostituto delle altre cose che dobbiamo fare. Quindi diciamo che alcuni esperti non è che negano l'utilità delle MC usate da tutti, semmai si chiedono se questo non possa essere un po' l'equivalente di andare in giro tutti con l'ombrello aperto anche se non piove. Cioè si chiedono in un'ottica di salute pubblica è davvero necessario che tutti si mettano una mascherina. Voi ragazzi volete la scienza e io ve la do. Questi ragionamenti quando parliamo del comportamento di milioni di persone ha comunque senso farli e ha mente fredda. Ok ma qual è la tua opinione Sergio? La mia opinione personalissima e peraltro un'influente perché non sarò io a decidere se voi vi metterete o meno le MC. È basata sulla sintesi di quello che ho capito, che leggo e che posso sapere anche con il buonsenso. La mia opinione è che sarebbe opportuno promuovere l'uso consapevole delle MC per tutti nei luoghi pubblici a patto di fare attenzione ad alcuni punti importanti che vi dico dopo. Perché quando finirà il lockdown e torneremo gradualmente alla vita di comunità potrà essere effettivamente utile una protezione collettiva per evitare di sputazzarci l'uno con l'altro e soprattutto io penso per proteggere quelle categorie di persone che sono più esposte. Non solo le persone fragili, immunodepresse, quelle che possono avere più danni da un contagio ma anche ad esempio le categorie di persone come i commessi di un negozio, come quelli che lavorano a contatto con il pubblico che sono quelli che devono per forza di cose essere comunque avere un certo contatto con gli altri e che rischiano di prendersi i nostri sputazzi tutti i giorni. Quindi ha senso che ci mettiamo una mascherina quando andiamo in giro anche per rispetto verso queste persone e per cercare di non sputazzarci a vicenda uno con l'altro. La maggior parte di noi starà bene e non sarà contagiosa ma oggi lo sappiamo esiste le possibilità che alcune di noi, alcune persone, possono essere contagiose pur non avendo in quel momento alcun sintomo evidente. Quindi ce ne possiamo andare in giro in perfetta buona fede, convinti di essere sani eppure in quel momento possiamo contagiare altri. Quindi in questo senso una protezione collettiva, io proteggo te e tu proteggi me, ha senso. A questo punto la questione diventa logistica. Bisognerebbe o bisognerà produrre un numero di MC che sia sufficiente per tutti. Le MC sono monouso, diciamo che ognuno di noi ne deve usare almeno uno al giorno, siamo 60 milioni, il che significa un miliardo e 800 milioni di pezzi da produrre e distribuire ogni mese. È fattibile per un paese comprarne oppure produrne una tale quantità? Ma io penso proprio di sì. È vero che sono tante ma è anche vero che produrre delle MC non richiede una tecnologia marziana, insomma non è come mandare i razzi sulla luna. Un paese avanzato può e deve essere in grado se servono di procurarsi anche un miliardo o due miliardi di mascherine al mese. Non chiedetemi se questa cosa venga fatta o meno in questo momento. Come avete sentito dalle notizie si fa fatica a procurare, a fabbricare le mascherine anche per gli operatori sanitari e quindi c'è anche la possibilità che tra un mese ci rivedremo qui e si parlerà del problema di quanto siano introvabili ancora le mascherine. Questa comunque ovviamente è una domanda che va fatta alla protezione civile, agli amministratori e non a me. Vabbè ma è meglio una mascherina vecchia usata portata male piuttosto che niente? Ecco questa è una cosa che pensano in molti, che mi hanno scritto in molti ma che purtroppo è molto errata. Una MC usata oltre un certo limite si riempie di saliva, della vostra saliva, del vostro sputo e quindi diventa bagnata e quando andate in giro e parlate in realtà state sputazzando addosso alle persone. Una MC piena di fluidi diventa una specie di bomba biologica, fra quella e niente meglio niente. In più una mascherina vecchia che teniamo per una settimana 10 giorni diventa un terreno di cultura per batteri e funghi che possono crescere su questa mascherina e quando ce la mettiamo ci possono infettare e ricordatevi che esistono alcuni ceppi di batteri e di funghi che sono resistenti agli antimicrobici che possono essere pericolosi quanto il coronavirus se non di più. Cosa intendo per uso consapevole del MC? Una MC non può sostituire i comportamenti che noi dobbiamo tenere come il distanziamento sociale e non può neanche sostituire le strategie di contrasto all'epidemia come per esempio i test e l'isolamento delle persone positive. Uso consapevole significa anche capire che non possiamo proteggere chi ci sta davanti indossando una MC bevuta del nostro sputo e che se ne va in giro ogni volta che parliamo. Significa capire le caratteristiche e anche i limiti di questo strumento. Significa anche che milioni di mascherine dovranno essere usate e gettate correttamente non come le cicche di sigaretta che la gente è abituata a buttare per terra perché l'idea di avere milioni di mascherine ogni giorno che se ne vanno in giro potenzialmente contagiando gli altri voi capite che è una pessima idea. Per me è un sì alla mascherina come per molti esperti più esperti di me ma se pensi che indossando una mascherina potrai continuare a fare le cavolate che facevi prima ti sbagli di grosso. Quando usciamo dobbiamo tutti tutti mantenere una distanza corretta fra una persona e l'altra. Quindi una mascherina non può essere né la scusa né il motivo per non rispettare questa prescrizione. Se non hai nessuno attorno a te non hai nessun bisogno di avere una mascherina. Le MC saranno probabilmente utili però nel momento in cui noi torneremo gradualmente alla vita di comunità. Non ti sto dicendo che non devi usare le MC mettitele non ne fare una questione di principio soltanto lascia perdere quel panno purulento che ti stai mettendo in faccia ormai da 15 giorni 20 giorni. Quali sono i rischi di una MC nuova indossata correttamente? I rischi dipendono da noi. Sono due come ho detto nel video precedente. Tutte le mascherine, le FFP molto di più ma anche le MC tendono a farci toccare la faccia più frequentemente quindi bisogna imparare a resistere a questo impulso con le MC con le mascherine chirurgiche questa cosa è molto più facile basta un po' abituarsi. L'altro rischio è il falso senso di sicurezza che si ha mettendo una mascherina che magari ci porta ad avvicinarci troppo agli altri e a non rispettare le altre norme che sono altrettanto importanti. Tutte queste cose dipendono da te più che dalla mascherina. Sarebbe giusto rendere le MC obbligatorie nei luoghi pubblici se è vero che servono? Allora facciamo un ragionamento sarebbe logico e giusto rendere le obbligatorie nei luoghi pubblici ma solo se le autorità saranno in grado di fornire sufficienti mascherine per tutti. Altrimenti cosa succede? Che la gente siccome obbligata si porta in giro la stessa mascherina per una settimana per 20 giorni e fa ancora peggio. Io la mascherina la lavo, la stiro, la metto sotto gli UV, me la faccio da solo con la maglietta, me la faccio con il tappetino del cane. Funziona? Non lo so ragazzi nessuno lo sa se funziona o no. È vero che per fermare la nostra saliva non ci vuole una tecnologia marziana ma è anche vero che i dispositivi devono seguire certe norme proprio perché le norme ti dicono che quel dispositivo funziona. Le soluzioni fatte in casa non garantiscono nessuno a meno che non siano state testate e validate. Chiediamoci ad esempio quanto durerà nella vita di tutti i giorni prima di riempirsi di sputo a seconda del materiale con cui la fabbrico? Quanto tempo passa prima che la mia saliva passi all'esterno? Se io devo sedermi in metropolitana accanto a uno che ha in faccia un panno pieno di sputo preferisco che non abbia in faccia niente. Esistono mascherine riutilizzabili lavabili? Vanno bene? Se ne sente parlare questa potrebbe essere una buona soluzione delle MC. La lavabili che possiamo riutilizzare sempre che siano testate e funzionino da dovere. Anche lì bisognerà però avere le istruzioni giuste per il lavaggio e per la manutenzione. Bisognerà che siano istruzioni semplici e che tutti siano in grado di fare. Attenzione altra cosa importante per favore le mascherine FFP con la valvola di esalazione che vedo in giro portate da un sacco di gente. Quelle valvole sono fatte per rendere più agevole l'uso di queste maschere perché sono fatte per gli operatori sanitari che le devono usare per lunghe ore non per voi che andate a farci la spesa e quelle valvole fanno uscire l'aria e insieme all'aria esce la vostra saliva e va a depositarsi sulla faccia degli altri. Voi capite che non è per niente una bella cosa andare in giro con una mascherina che sputazza la vostra saliva sugli altri. Per quanto mi riguarda queste mascherine con la valvola andrebbero semplicemente vietate nella vita di tutti i giorni eppure vedo un sacco di gente che le usa. Peraltro vedo tantissime forze dell'ordine e anche tantissimi commessi degli alimentari usare queste valvole e la cosa è inquietante perché c'è la potenzialità di contagiare centinaia di persone. Non ce l'ho ovviamente né con le forze dell'ordine né con i negozi di alimentari, ce l'ho con chi dovrebbe sapere queste cose e dovrebbe fornire e consigliare i dispositivi adeguati. Quindi per favore levatevi dalla faccia quelle maschere con la valvola che vi portate in giro. Ma io voglio vedere comunque tutti con la mascherina perché mi sento più sicuro. D'accordo ma di nuovo vorresti sederti in metropolitana accanto a uno che va in giro con la mascherina costruita con la ricetta della nonna e lavata con la ricetta della zia? Accanto a uno con una valvola che ti sputazza la sua saliva addosso? Un conto è il senso di sicurezza, un conto è la sicurezza vera. Quindi ragazzi veramente spero che capiate che questo è un tema non difficilissimo però che ha una sua complessità. Dobbiamo comunque usare il cervello e usare il buonsenso per capire come le possiamo usare in modo consapevole e utile per noi stessi e per gli altri. Ma io voglio proteggere me stesso perché vuoi impedirmelo? La gente non ha rispetto e mi stanno utile addosso quindi qualunque mascherina va bene per proteggermi. Aggiungo io chi se ne frega se ha la valvola o se sputazzo gli altri. Ecco questo è l'atteggiamento che ci farà perdere la partita e purtroppo è un atteggiamento molto comune a giudicare dai messaggi che mi avete mandato. L'unica protezione che le mascherine ci possono offrire nella vita di comunità è una protezione collettiva basata sull'attenzione reciproca. Io proteggo te e tu proteggi me. In questa situazione pensare di proteggere solo se stessi come se ci fosse un guscio magico oltre che egoista non ha senso dal punto di vista della strategia di protezione. Ragazzi non vi sto facendo il pistolotto moralista sull'altruismo o l'egoismo. Sto parlando di cose pratiche. Per le sue caratteristiche ormai abbiamo capito che questa epidemia qui farà molti meno danni nelle comunità e nelle società che sono più ordinate, meglio organizzate e più solidali. Pensare di poter battere il piccolo bastardo di coronavirus con un comportamento egoista e senza pensare alla protezione collettiva è una strategia che non funziona. Quando usciremo di casa gradualmente dovremo tutti pensare a rivedere i nostri comportamenti in un'ottica di protezione collettiva. Questa cosa ragazzi ricordatevela bene perché non potremmo più permetterci di pensare solo a noi stessi. Per ora state in casa cervello sempre acceso e fate i bravi. Eh certo che se al supermercato mi regalassero una mascherina sarebbe migliorare di questi tempi. Botta la via la mascherina snella. Botta la via la mascherina. Botta la via la mascherina. Grazie a tutti.